Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Alessandra Celentano è forse la più nota tra le ex ballerine italiane. La sua carriera fulgida e carica di opportunità però, purtroppo è stata interrotta prematuramente da una terribile malattia. A rivelare questa dolorosa verità è stata lei stessa nel corso di un'intervista. La Celentano ha dovuto ritirarsi dai palchi e non potendo più danzare. È diventata una coreografa nonché insegnante di danza. La nipote di Adriano è entrata nel mondo della danza quando era molto giovane. E tra gli anni 80 e gli anni 90 la sua carriera ha fatto una grande esplosione, portandola a collaborare con personaggi di indiscutibile spessore. È proprio in quel periodo che la ballerina ha iniziato ad accusare dei dolori alla base delle dita dei piedi, dando, all'inizio, poca importanza al malore. Purtroppo però col passare degli anni il fastidio si è intensificato, fino al punto in cui Alessandra ha dovuto vedere uno specialista. Le sono state fatte delle radiografie che hanno portato ad una diagnosi, sindrome dell'alluce rigido, caudata dai grandi sforzi. L'unica possibilità era quella di un intervento chirurgico. L'intervento, per fortuna, è andato per il verso giusto. Alessandra si muove con agilità e senza problemi, ma di certo non avrà più i piedi di una volta. Ma in cosa consiste la malattia della Celentano? L'alluce rigido è un'alluce che perde la sua normale mobilità articolare, inizialmente come difesa dal dolore. Successivamente in senso strettamente fisico, per via di una sorta di artrosi degenerativa dell'articolazione. Si tratta di una patologia molto rara, che colpisce principalmente gli uomini. Le cause della patologia sono di vario genere, nel caso di Alessandra Celentano. I ripetuti sforzi negli allenamenti l'hanno portata ad una forma molto acuta del disturbo.